Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Freepixel per un nuovo video Allora ragazzuoli, intanto saluto tutti ragazzuoli che stanno qua Ciao 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 buona, mi ha givvato tipo 80.000 euro E anche se non ho grandi... non ho un cazzo con 80.000 euro, non ci faccio granché Perché slash rank up, rank up, ho visto? Allora ragazzuoli, rancare è facile Slash rank up, questo quanto non ci vuole, 450k Insomma all'inizio è facile, ovviamente più vai su e più le miniere diventano... Cioè più roba c'è alle miniere e più si rank up, quindi ragazzuoli, effettivamente così è Ma non dimentichiamo una cosa, allora ragazzuoli, slash is warps Oggi andiamo a vedere tutte le migliori isole che ci sono, partendo dalla prima andiamo a fare tutte Eccola qua, cazzo slash v Wow, adesso non mi vedi più, slash gm1 Ok, ok, allora facciamo un tour delle isole, quelli che hanno messo il warp Questa è un'isola abbastanza vuota, ho sbagliato, che cazzo raga Ok, is warps, facciamo un tour, ve l'ho detto, di tutte le isole, vediamo le migliori Questa per esempio è già un'isola che sta diventando molto molto ampia e molto molto larga Guardate un po' ragazzuoli, intanto hanno fatto tutto sto coso di diamanti estremo Perché comunque si riescono ad ottenere diamanti, non è un problema E hanno fatto tutta sta roba devastante Cazzo però, non sarebbe male, penso in vanilla una cosa del genere In verità l'ho, ci ho provato a fare una roba del genere con la bug abuse Sarebbe figo, ok, carina l'isola, mi piace, non è male, ci devono lavorare ovviamente perché A livello estetico, sto visto, stanno facendo alcune cose adesso Piano piano torneremo sicuramente a visitare la loro isola nel prossimo, in uno dei prossimi episodi Allora, vediamo un po' invece questi altri ragazzotti che hanno fatto questo bel tunnel Qui c'è della bedrock, la famosa bedrock Ragazzi, li potete sciopparla, la bedrock, come ben sapete E non vedo l'ora che potete iniziare a fare sta roba Qui ci sono, ok, tutte le farm di cactus Tra poco ragazzoli vi metto vendibili tutte queste cose Quindi probabilmente già saranno vendibili in questo momento Per voi ovviamente mentre guardate il video hanno anche cambiato il bioma Perché questo, hanno messo del gaccio quindi il bioma è per forza un bioma Chi cazzo di bioma siamo? Vediamo un po', vediamo un po' Cold Beach infatti Prossima gita, prossimo giro, prossima isola ragazzoli C'è un enderman, ciao mister enderman Wow, l'ho devastato Allora, ecco qua l'isola Qui c'è la parte con tutte le ceste in cui tu puoi scendere Arrivi qua e c'è la parte dell'isola Ok, isola carina in fase di espansione anche questa Continuiamo ad andare avanti Eccoci qua la prossima isola Ok, questo è un po' più interessante Sono tutti pillar di materiali Diamanti, smeraldi, redson e tutto il resto Se si scende c'è un pillarone E qui, beh, ci stanno lavorando penso in questo momento Hanno fatto questo gazebo Qua si scende, ci stanno lavorando proprio in questo momento i ragazzotti Li diamo un paio di enderperl Giusto per far sapere che siamo passati Eccoci qua ragazzuoli Altra isola Quest'isola l'avevo vista Cioè me l'ero girata io in verità Per vedere i vari warp che avevano messo Eccola qua ragazzuoli Anche qui c'è un sacco di diamanti Si stanno facendo tutta la parte sopra col ferro Di là ci sono depositi di diamanti Ferro, oro e smeraldi No, di diamanti oro e smeraldi Non so se vogliono fare qualcos'altro Qua sopra si lasceranno penso vuoto Perché c'è ovviamente il C'è il vetro Quindi è un po' più carino Stiamo facendo questa costruzione abbastanza grande Non so da dove è l'entrata Ah, da di qua si passa Vediamo un po' Sono curioso di andare a vedere Com'è sta roba Lì c'è il portale del nether Ah, è qua dove si spawna Proprio dove siamo entrati prima Questi ragazzuoli invece penso abbiano fatto uno shop Proprio vendono la roba E tu vieni qua Nuovo 100% usato Diventa Utilizzi Ma questi comprano o vendono Non lo so che cosa fanno L'angelo giungla A 10 Vedete, ok, carino Cioè loro vendono roba Fanno concorrenza allo shop Incredibile Io ci guardo Io mi arricchisco Invece comprare allo shop Comprate da me Per carità va benissimo Se fate un'economia Voi ragazzi E' meraviglioso Cioè fantastico sarebbe 7 armature a completo 120 Ma che cazzo grandi Si sono fatti il loro shop E' carina anche l'isola Mi piace Un'idea proprio Di fare un'isola Come fosse una casa Quindi a compartimenti Se ci mettete No ma forse il soffitto Anche se stonerebbe un po' Veramente carino Mi piace Bravi ragazzi Sti due ragazzi Voglio andare al warp Perché mi sono piaciuto Voglio vedere dove è il cartello Del warp Bravi Bell'idea ragazzi Eccolo qua Welcome Bravi Ovviamente non ci sono ancora Isole gigantesche Come quelle del vecchio Bryson Ma semplicemente per tempo Perché ovviamente Questo Bryson è online Da 4 giorni E in 4 giorni Guardate che quello che hanno fatto È davvero veramente Veramente tanto Questa è un'altra isola Che stanno puntando Ovviamente sulla Sì avete capito anche voi Sulla ricchezza dell'isola Perché comunque anche l'isola Ha una certa ricchezza Verrà aggiunto un warp top Per mettere tutti E dico tutti I Le liste Diciamo della top Dei top Delle top isole Dei top bilanci Dei top tutto Anche top kill magari Tenteremo di fare una cosa del genere Allora ragazzoli Questa è un'isola In cui non permettono l'accesso Ovviamente GM3 Io faccio come cazzo mi pare Però È carino L'idea Perché ovviamente Dici vabbè Questa è la mia isola Ti faccio vedere soltanto Non ti ci faccio arrivare Vabbè Un'isola ancora in fase di espansione Devono crescere Qua sotto carino L'idea Di questo cobblestone generator Funziona Sì funziona Ovviamente magari Volevamo mettere anche i generatori Di minerali Potrebbe essere un'idea Per Upgradare il Pryzon Bene ragazzoli Li swarp Abbiamo Li abbiamo finiti Eccoli qua Siamo arrivati all'ultimo Che è appunto questa Detto questo Posso andare alla mia isola Che effettivamente Sì Diciamo È un po' Spoglietta Sì Un po' tanto spoglietta Però voi capite ragazzuoli Che Gestisco il server Non ho fatto ancora una serie Magari ci potrei iniziare a nerdare Perché no Potrei costruire anch'io la mia isola Oggi questo era un episodio Solamente per far vedere Le top isole Per far vedere i warp più carini Ragazzuoli Ricordo che potete creare anche voi Il vostro warp E potrete visitarlo Magari in un prossimo video Se mettete Magari l'isola mi colpisce Lasciamo dei premi Magari faremo anche dei contest Per Ovviamente dando delle key Non dando i VIP Perché magari i ragazzi Hanno già il VIP Ma semplicemente dando delle key A chi Ha l'isola più bella Magari in un video Mi giro tutte le isole In live Mi giro tutte le isole Segniamo l'isola più figa E a questo punto Possono vincere il warp Magari Non lo so Poi fatemi sapere Se avete qualche idea Ci saranno comunque tantissimi eventi All'interno del server Allora ragazzuoli Purtroppo il video viene corto Ovviamente perché ci sono attualmente Ancora poche isole con il warp Che cosa andiamo a fare ragazzuoli Oggi ci andiamo a sistemare Un po' l'isoletta nostra Tentiamo di fare una cosetta carina E via Allora questi li leviamo Leviamo anche questo Raga Nica per niente Ma li andremo a riprendere in seguito Ci spacchiamo anche il meloncino Dammi bravissimo E ci spacchiamo anche questo La zucca Ci spacchiamo questo Non danno semi Pensavo di essere semi What the fuck Va bene Ok anche se non danno semi Stica perché ce ne abbiamo altri Per fare sta roba Quindi questo possiamo mettere via tutto Ora A questo punto Che cosa ci serve Io non ho ferro Effettivamente ne ho poco Però posso andare a prendere Slash warp pvp Beh Un warp pvp Regolare Ti spari Stame la d'oro Mentre cadi Vai qua E inizi a Sravellare Come un dragone Tutto Uno uno Punto esclamativo Ok Vai Così Ok Ok molto bene Una volta che hai Tutta questa bella roba Direi che poi Puoi tranquillamente Decidere di tornartene Nella tua home Slashies Che non ti massacrano È anche divertente Il fatto Allora La prima cosa da fare È mi serve Un Del legno Perché mi servono Del cesto Ho tanto legno Quindi va bene Allora Io divido questo Faccio così Faccio Tac 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 Anche di più In verità Così Molto bene Mi faccio delle ceste Tac Allora ragazzi Lui è passato un fottino di tempo All'ultima clip Sono d'accordo Però ho dovuto fare Sta cosina qua Per cuocere Tutta la roba Che io avevo in eccesso Perché mi dava Estremamente fastidio Così ho deciso Di prendere Tutta Vedete quanta è No Ancora non c'è l'autosmeltro Stiamo mettendo Eh raga E comunque Facciamo così Nel genere Tac 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 E lui ti tira fuori Tutto Te lo butta Di qua Molto molto comodo Direi Assolutamente sì Poi ci serve questo Dobbiamo spaccare Questi tre blocchini Facile Easy Eh devo mettere ancora Questa A cuocere Ok ci siamo Slash sell all Via Ci liberiamo di un po' di roba In eccesso Ragazzoli stiamo mettendo Comunque tutto il legno Tutte le altre cose vendibili Ragazzoli Quindi non vi preoccupate Presto sarà disponibile tutto Potrete vendere Tutto Così da massimizzare i guadagni Questa roba Funziona Certo non pensate Che sia una di quelle Fa di quelle cose Che cuociono 1 1 Punto esclamativo Come E cuocevano Nel mio E come cuocevano Nel mio mondo survival Non c'ho neanche sbatti Di farla qua La mega fornace Lunghissima Però insomma L'idea è quella Warp PvP Per chiudere In bellezza ragazzuoli Andiamo a rompere Il culo a qualcuno Eh ma Senza armatura è facile Cioè così è Easy Oh my god Oh my god Oh my god Vabbè in verità Puoi fare anche tipo Una cosa del genere Per imbucarti bene E iniziare a scavare Come se non ci fossero Perché guardate Si guadagna un botto Qui al warp PvP È uno dei metodi Migliori per guadagnare Perché ci sono diamanti Ci sono sblocchi Smeraldo Diamanti e tutto il resto Cioè Nelle prime miniere No Perché se sei dalle prime miniere Sì se poi andate avanti No ovviamente Pi andate avanti Più la miniere a PvP Diventa meno P Ovviamente raga Slash Stelluol Comunque In 30 secondi Mi sono fatto 4000 E arrivare ai primi rank Se venite qua a farmare Ci vuole tipo Un cazzo Veramente un cazzo Poi dopo Sì ovviamente Andando a mano Andate avanti È preferibile usare Le miniere Che sbloccate Comunque ragazzuoli Seguiranno Oggi ho spaccato il piccone Avete ragione Capita Capita Però tanto si possono riprendere Quindi sti cazzi Esiste anche Il repair hall Per riparare tutto Comunque ragazzuoli Penso che per questo video Possa tranquillamente Essere tutto Mi raccomando Seguitemi su tutti i social Anche sui Sociali in ente al server Perché Se ci dovesse essere Qualche evento Give e tutto il resto Lo spammeremo ovviamente là Per farvi arrivare meglio la notizia Quindi ragazzuoli Per questo video è tutto Avete tutti i link in descrizione Iscrivetevi al canale se avete fatto Condividetevi il video Per farmi ciò di persone Passate nel server Mettete mi piace al video Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo come al solito Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi